Dolcetto o scherzetto? È la domanda fatidica per la notte di Halloween, una festa americana entrata ormai a far parte della tradizione anche italiana. Del resto lo abbiamo appreso alla recente edizione della festa della zucca di Foiano della Chiana, che gli americani non hanno inventato proprio nulla. La morte secca con la zucca della Val di Chiana era appunto una tradizione tutta italiana. Polemiche nazionaliste a parte, la notte di Halloween è per giovani e giovanissimi un'occasione appunto per fare festa e purtroppo puntualmente anche per alzare il gomito. In tutto 20 gli interventi da parte del 118 per coma etilico, di questi 8 avevano meno di 15 anni, tutti ricoverati, il che significa che il tasso alcolemico era davvero alto. Quello dell'abuso di alcol tra i giovani e giovanissimi è un fenomeno purtroppo ormai ben noto. Recentemente nel comune di Arezzo è stato anche chiuso un locale perché somministrava alcol ai minorenni e l'ordinanza del sindaco di Arezzo parla chiaro che non si possono consumare alcolici in strada. Un primo passo sicuramente per arginare questo fenomeno, del quale però la nostra società tutta deve farsi carico al più presto.